allora visto che ti ho dato che questa casa in affitto io ho fatto questo questo forno che praticamente se tu togli questa tavola di legno che messo qua davanti ho fatto come un bancale un pallet per mettere caricarlo con il muletto e portarmelo via quando dovrò andarmene via se dovrò andarmene via l'idea mia è come il tempo di comprare questa casa però comunque non so che possono succedere sempre delle cose e l'ho fatto appoggiare come vedi su sei bidoni scusami c'è la scala c'è tutto qua in mezzo però ho dovuto farlo adesso perché se non ti becco più sei bidoni tre da una parte e tre dall'altra e avrà un peso non indifferente la parte davanti devo rifinirla però non posso rifinirla finché non finisco di camminarci attorno e questo finché non mi funziona non mi risolvete il problema del tiraggio e non posso finirlo allora adesso io metto in fuoco in marcia il fuoco e ti faccio il video come funziona e dove fuma e dove non fuma chiuderò la porta lascerò aperto il respiro e questa finestra che qua la lascio aperta così e se no no la chiudo la chiudo la chiudo e così vedi si dopo ovviamente bloccherò perché devo far uscire tutto il fumo perché sicuramente fuma in subito ti faccio la fide